Ciao, cosa stai leggendo oggi? Schopenhauer Schopenhauer Il mondo come volontà e rappresentazione Sì ma Platone, anche tu, non puoi leggere Topolino come tutti gli altri bambini Ciao Gaber Uè, è successo qualcosa? Questa? È arrivata stamattina Che cosa è sta roba? Signione condominiale del giorno, sa? Dice che dobbiamo andare via entro stasera Ma anche il tempo di fare la valigia c'è andato Ma scusa, e adesso dove andreste? Per ora è del mio cugino E poi boh, sono desperato già Comunque sta tranquillo, qualcosa mi faccio venire in mente Ah, benvenuti Allora è un bel quadretto, mazza che schifo, è che? Au, Africa, dammi un giudizio, ti sembrano pulite queste scale? Le ho appena pulite Vabbè, d'altro da un po' la bacchia è finita, eh Allora, cominciamo a star calmi e poi mi devi una spiegazione Com'è che non ne sapevo niente di sta roba? Au, Marco Mix, intanto stai calmo te, primo Secondo, famo la bella cosa, va Al posto di unanimità, ci scriviamo voti favorevoli, 15 Voti contrari, 1 E' il tuo, eh? Giacomino, amico di i negri Ciao, Congo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.